Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo terzo video dedicato al Natale, in cui vi racconterò quelle che secondo me sono le 5 migliori città in cui trascorrere il Natale. In questo caso si parla di tutto il mondo, in modo tale da stuzzicare un pochino la vostra fantasia. In genere il Natale lo si trascorre in famiglia, ma questo periodo dell'anno può anche essere un'occasione per prendere e viaggiare in una città che si trasforma in questo periodo. Per l'appunto la nostra prima località che si trova in Germania, che è Dresda, che ospita uno dei mercatini di Natale più antichi d'Europa e che risale al 1435. Ed è veramente una città che si trasforma in questo periodo dell'anno ed è veramente magica come atmosfera. Seconda località, sempre in Europa, è Londra, che ha una grande quantità di mercatini da offrire durante il periodo natalizio e soprattutto, diciamo, potrete assaggiare il padding tradizionale di Natale in questo periodo, magari accompagnato da un buon brandy. Cambiando continente ci spostiamo a New York, negli Stati Uniti ovviamente, ed è tra le migliori appunto città dove trascorrere il Natale perché potrete ammirare il famosissimo albero del Rockfeather Center oppure le vetrine che vengono letteralmente addobbate a festa sulla Fifth Avenue. Per chi invece sogna un bianco Natale non può lasciarsi sfuggire in Alaska, North Pole, dove c'è la città che appunto ospita la casa di Babbo Natale, dove assolutamente c'è un'atmosfera indimenticabile e unica nel suo genere. Quinta località, è una località cui io tengo particolarmente soprattutto in questo periodo dell'anno ed è Sydney in Australia. Io ho fatto il Natale là l'anno scorso e vi lascio i video che ho realizzato perché ce n'è più di uno. E diciamo che è strano, è un pochino alternativo, ma comunque magico indossare il cappellino di Natale mentre si passeggia per la città in maglietta e pantaloncini. Se volete appunto vedere un pochino come si trasforma la città di Sydney vi lascio appunto il video. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche curiosità da chiedermi, lasciatemi un commento qui sotto. Se siete già stati in una di queste città durante il periodo natalizio potete scrivermelo e se avete anche qualche altra città che si trasforma e diventa magica in questo periodo potete sempre lasciarlo in un commento. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e condividetelo anche con i vostri amici. Se volete potete iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Io ne approfitto per farvi gli auguri di Natale visto che non ci vedremo fino al 25 e vi lascio come al solito dicendovi have a nice life.